Dopo il debutto a Londra, arriva in Italia, al Museo Macro di Vianizza a Roma, dal 19 gennaio, la mostra The Pink Floyd Exhibition, The Immortal Reminds, dove rimarrà fino al 1 luglio 2018. Ad inaugurarla sono intervenuti, oltre alla sindaca Virginia Raggi, due membri fondatori della storica rock band britannica, Roger Butters e Nick Mason, quest'ultimo anche nella veste di consulente per i Pink Floyd. La nostra eredità è esattamente ciò che si trova ora in questo edificio, una collezione di lavori, ha detto Mason, una delle cose curiose è che il nostro viaggio sembra più premeditato di quello che è stato, questa è la mia impressione. Sono profondamente preoccupato per ogni tipo di questione di diritti umani. So che forse questo non è il luogo giusto, c'è qualcosa di sbagliato con questo, con questa mostra, ci sono molte persone interessate, è bellissimo, io non sono molto interessato, ha aggiunto Butters, sono più interessato a voi. Dagli esordi pop psichedelici con Sid Barrett, passando per The Dark Seed of the Moon e The Wall, fino all'ultimo live auto del 2005 con Confortabli Numba, la mostra è un viaggio audiovisivo, grazie anche alle audioguide sonore Sennheiser, nei 50 anni di carriera del leggendario gruppo rock. Circa 350 gli oggetti esposti, mai visti prima. Non mancano il maiale rosa gigante e la musica e le voci dei membri passati e presenti della band che raccontano la genesi dei maggiori successi. La mostra è allestita non lontano dal Piper, dove ebbe luogo uno dei primi concerti dei Pink Floyd in Italia nell'aprile 1968. Ideata da Storm Torgerson e sviluppata da Aubrey Popwell di Ignosis, The Pink Floyd Exhibition è prodotta e organizzata dalla Concert Productions International di Michael Cole, da azienda speciale Pala Expo, Mondo Mostre e Live Nation.